A Sanremo 2023, signore e signori, Chiara Ferragni! Benvenuta ufficialmente a Sanremo. È un onore per me essere qua. Volevo ringraziare innanzitutto Teama e la Rai per avermi permesso di condividere questa scalinata così importante con queste donne. Donne forti ma soprattutto donne che aiutano ogni giorno altre donne a essere forti. Beh, aspetta, aspetta. Calma, 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 calma. Questo vestito non è trasparente ma è un disegno del mio corpo. Ah, è disegnato. Io penso che il corpo di noi donne non deve mai generare odio o vergogna. Fai entrare il sole! Che bellissimo! Guardate, guardate questo abito meraviglioso di Chiara Ferragni! Grazie!